il vasto girardi torna al successo battendo 2 a 1 la vastese con una prestazione di sostanza e qualità prosperi tiene a riposo mercai per un problema la coscia e manda in campo fioretti al suo posto designata per la regolarità del confronto è la signora graziella pirriatore di bologna il primo squillo è di marca locale con guida che si gira e tira bocca nera blocca in due tempi al diciannovesimo il vasto girardi la sblocca di filippo a terra fioretti in area per il direttore di gara e penalty dal dischetto si presenta fioretti che spiazza bocca nera vasto girardi 1 vastese 0 neanche il tempo di festeggiare che i locali restano in 10 mamona mette il turbo e si invola verso la porta di guerra pacciardi lo ferma con le cattive al limite dell'area di rigore e viene espulso per fallo da ultimo uomo locali in 10 la punizione seguente calciata dallo stesso numero 10 bianco rosso non crea problemi all'attento guerra minuto 29 mamona crossa da destra martiniello fa 1 a 1 ma il fischietto bolognese annulla per fuorigioco quattro minuti dopo lo stesso attaccante ex campo basso spedisce al lato da buona posizione il vasto girardi quando affonda fa male e trova il raddoppio grande azione di salatino che va via diversi avversari e conclude in diagonale palla sul palo sulla respinta e guida il più lesso di tutti a firmare il 2 a 0 con il montaggio di loreto c'era suolo siamo nella ripresa passa un minuto e la vastese va vicino al gol corner di obodo respinto dalla difesa di casa sfera mamona che conclude debolmente guerra para dopo il palo di raucci da distanza siderale per il vasto girardi la formazione di dadderio accorcia le distanze mamona controlla in area di rigore si gira e tira cuoio sul palo con diallo che è il più lesso di tutti e lo spinge oltre la linea vasto girardi 2 vastese 1 a questo punto la formazione abruzzese attacca a testa bassa alla ricerca del pari minuto 31 monza serve martiniello conclusione deviata in corner tre minuti dopo monza appoggia a mamona che da buona posizione conclude alto minuto 40 di filippo corregge in rete di testa il pallone del 2 a 2 gol invalidato per posizione irregolare del numero 2 120 secondi dopo sul traversone di diallo martinez ci prova al volo la sfera si spegne sull'esterno della rete dando l'illusione ottica del gol il vasto girardi esulta per i tre punti conquistati e si proietta al derby di mercoledì con il campo basso per la vastese l'occasione del riscatto passa dalla sfida contro il pineto abbiamo preso due gol rigore poi l'altro gol insomma da un fallo laterale e certamente insomma li siamo andati 2 a 0 ci siamo complicati la vita da soli poi il secondo tempo un po la superiorità numerica un po la volontà di riprendere la partita abbiamo fatto abbiamo fatto meglio abbiamo creato qualche occasione anche se poi anche rauci ha preso un palo insomma in un'azione di contropiede però ci stava anche quello però insomma certamente una prestazione sotto tono soprattutto quando siete rimasti in superiorità numerica si poteva forse fare di più sì certamente si poteva girare meglio dalle fasce andare più sull'uno contro uno però anche queste partite ravvicinate poi non ti con te non ti consentono di essere lucido e fresco con le gambe quindi anche questo poi comporta il voler riprendere tutto e a tutti i costi e per di quelle quelle geometrie che dovresti avere invece mercoledì si torna in campo partita contro il pineto da recuperare altro match dall'elevato cosiente di difficoltà se voi avete visto che nonostante avete giocato bene nonostante avete avuto quattro occasioni davanti alla porta poi avete perso e quindi questo la dice lunga sulla forza della squadra avversaria perché è una squadra che pur avendo avuto poco poi ha vinto e perché i giocatori sono forti e hanno una continuità di azione costante commissero ultimo pensiero da molisano sul campo basso si si va verso la promozione manca ovviamente la matematica c'è ancora un po di strada da fare però è l'anno giusto sta andando tutto per il meglio ma io ora i risultati di oggi non li non li so e quindi non so che cosa sia sia successo però devo dire che il campo basso ha un'organizzazione di gioco ha dei giocatori validi e ha un allenatore di alto livello secondo me a tutto questo si aggiunge un'ottima società mi dicono la città la conoscete e la conosciamo tutti quanti penso che siano tutti i presupposti per tentare di arrivare fino alla fine primi in classifica e quindi sicuramente insomma faranno fino alla fine lotteranno per per arrivare a questo risultato